Siamo con Tommaso Valenzisi, diciamo uno dei pirassi di questa San Stevese. Che stagione è questa qua, Tommy, per te? È una stagione nuova, una stagione dove c'è un gruppo nuovo, dove abbiamo voglia di far bene e niente, dobbiamo guardare partita per partita, andare avanti. Il nostro obiettivo è solo far bene, pensare a far bene basta. Grande gruppo, tra l'altro dopo tante stagioni qui alla San Stevese, penso, è solo una mia ipotesi, potresti essere capitano di questa squadra. Non lo so, ma se fosse sarei solo che orgoglioso e contento di questo, perché per me è un onore. Sono in questa società tre anni, è solo che è un coronamento di questi tre anni. Sono contentissimo, contento del gruppo che si sta formando, contento del mister, non vedo l'ora che inizi. Non vedi l'ora che inizi e tra l'altro quest'anno sarà un campionato, secondo me, come ho detto anche al mister, più livellato. Non c'è la Lasso FC che l'anno scorso ha ammazzato il campionato. A tuo avviso, che campionato potrete disputare? Siccome ne ho viste tanti in questi anni, so che la testa è quella che fa tutto. Quindi non c'entrano giocatori, non c'entra gruppo. Bisogna solo stare a noi, sta a noi, partita per partita, divertirci. E vedremo che, secondo me, faremo molto bene quest'anno. Dobbiamo solo pensare a quello. Non farci obiettivi di vincere, non vincere, ma partita per partita ci togliamo qualche soddisfazione, secondo me. Grande, Tommy. Grazie. Ciao, Dami. Ciao.